Guicciardini e Machiavelli sono due facce opposte della medaglia rinascimentale, così potremmo dire, usando una metafora scontata, ma che rende bene l'idea di come i due autori vicini nel tempo, amici perché nel 21 Machiavelli fu ospite di Guicciardini e da lì nacque una amicizia forte, i due autori hanno un punto di vista completamente differente sulla realtà. L'idea, come dire, utopistica all'idea comunque calata nel reale di Machiavelli, secondo cui la situazione italiana avrebbe potuto trovare una soluzione grazie all'azione tempestiva, energica di un principe, a quest'idea si contrappone il pessimismo Cooper assegnato di Guicciardini, un fiorentino di famiglia aristocratica vicina ai medici, a differenza di Machiavelli, che si trovò anche a svolgere incarichi importanti, diplomatici, anche militari, che fu molto vicino ai papi, prima Leone X, poi Clemente VII, un papa dei medici, e che ebbe dunque modo di osservare la realtà nelle sue varie sfaccettature, ma soprattutto quello che determinò il cupo pessimismo dell'autore fu rappresentato dal sacco di Roma. Nel 1527 Carlo V con le sue truppe arrivò a mettere a fuoco, a ferrefuoco, a saccheggiare la città e questo segnò fortemente l'immaginario di un'epoca, un'epoca di instabilità che si apre sicuramente a far data dal 1492 con la morte di Lorenzo il Magnifico, che va rappresentato un po' l'ago della bilancia della situazione italiana, è il 1527 invece, questa è la forbice temporale, che segna dunque l'avvio di un'epoca in cui l'immaginario degli uomini è fortemente segnato in negativo. L'idea di instabilità, di incertezza, la realtà, agli occhi di Guicciardini appare come qualcosa di complesso, di difficile da afferrare e questo è un fatto importante perché mentre Machiavelli contava che sulla realtà si potesse incidere, invece diverso è il punto di vista di Guicciardini per il quale la complessità è tale che sia impossibile, che è impossibile abbracciare la realtà e questo trova il riflesso immediato nella scelta di scrivere non un trattato come aveva fatto Machiavelli, bensì un antitrattato, perché i ricordi che di solito si studiano nei percorsi scolastici sono un'opera che colpisce subito per il suo carattere frammentario. Tecnicamente, o meglio, la definizione così fu proposta dall'autore è quella di accadimenti, di ammonimenti o avvertimenti che siano degni della memoria, questo era nelle intenzioni di Guicciardini. Ricordi vuol dire cose da ricordare ma vuol dire anche cose che sono degne di essere tramandate e che servono anche da monito, cioè da consiglio per la vita quotidiana, un po' come era stato per esempio nelle scritture mercantili del 1300 in cui i mercanti, per esempio Morelli uno di questi, tenevano nota di consigli pratici da tramandare poi ai propri familiari. E questo è comunque, questo ci mette nel mondo delle scritture di famiglia, che erano scritture che partivano dal presupposto di voler condividere con i familiari o gli amici stretti dei consigli che fossero specifici e che dovessero essere di aiuto nell'esercizio delle proprie attività. Quindi c'è una tradizione alle spalle, ma ritornando a Guicciardini dobbiamo considerare che quello che lui fa non è altro che raccogliere una serie di aforismi, se vogliamo, di definizioni, di riflessioni che sono incentrate sugli argomenti più vari e quindi si tratta di pensieri che sono in fondo irrelati, nel senso che si presentano un po' con l'idea della casualità, non sono disposti in modo ordinato, non sono in relazione stretta l'uno con l'altro. E questo ci mette di fronte al carattere dei ricordi, che è quello del carattere frammentario della mancanza di sistematicità. E questo mi permette anche di sottolineare come questa scelta risponda a una definita prospettiva della realtà, che è quella di chi considera che la realtà sia qualcosa di fuggevole, qualcosa di difficilmente controllabile. Ed è questa la ragione per cui Guicciardini scrive un antitrattato anziché un trattato. Il trattato è particolarmente caro agli autori rinascimentali. Il trattato implica, penso ad esempio alle prose della volgarlingua di Bembo, oppure al cortegiano di Baldassar Castiglione, implica una visione della realtà che è completa, che è sicura, che è certa. Si scrive un trattato per trasmettere delle norme, un codice di norme, ma perché si scrive un trattato bisogna avere la certezza e la fiducia che la realtà rappresenti qualcosa di controllabile. Niente di tutto questo nella visione di Guicciardini, per cui il carattere assistematico di questi ricordi, che sembra quasi che si succedano senza un ordine preciso, è la riprova che la sua prospettiva, al suo orizzonte, è un orizzonte cupo e pessimistico. Altra cosa importante, mentre un trattato conduce in fondo ad una conclusione, invece possiamo parlare nel caso dei ricordi di opera aperta, nel senso che, appunto per la concezione relativistica della realtà, per l'approccio problematico alla realtà, è esclusa una prospettiva univoca. E l'opera aperta significa che il lettore è chiamato direttamente in gioco, in causa, per poter dare la sua interpretazione, vale a dire per, di fronte a quello che viene proposto dall'autore, il lettore deve in un certo senso trarre un suo insegnamento. Una scrittura privata, una scrittura che ha alle spalle i libri di famiglia, una scrittura che non era destinata al pubblico, perché è vero che quest'opera, che consta di varie redazioni. L'ultima definitiva è del 1530 e i ricordi a quel punto sono diventati 221. Ecco, quest'opera non era concepita per la pubblicazione, bensì per un gruppo ristretto e, fra l'altro, fu pubblicata a 25 anni dalla morte dell'autore. Ancora, nella visione problematica di Guicciardini, due elementi sono fondamentali per potersi orientare in un mondo che ci lascia sempre esterefatti e disorientati. Il primo elemento è il particolare, vale a dire il particolare, non il generale o l'universale. Significa che è dal particolare che parte ogni indagine, parte da un caso specifico. Non c'è nulla di generale, non c'è nulla che tenda all'universale. Se vogliamo, questa è anche una bella differenza rispetto a Machiavelli, perché per Machiavelli contava in fondo la possibilità di dedurre dai casi di vita quotidiana o dalle letture degli antichi delle leggi generali, universali, che fossero validi anche alla sua epoca. Invece per Guicciardini non si può arrivare ad abbracciare la realtà, l'unica cosa che conta è appunto il particolare, che è visto come l'avvio dell'indagine, ma il particolare vale anche come tornaconto personale. Ecco, questo potrebbe essere anche letto in chiave critica, se consideriamo il tornaconto personale, la salvaguardia del proprio particolare, contrapposto invece alla socialità, contrapposto alla dimensione collettiva, ma in realtà il particolare si spiega con questo disorientamento dell'autore. E l'altro elemento fondamentale, sicuramente verrebbe da dire la ragione per potersi orientare, ma l'altro elemento, con una parola di Guicciardini, è rappresentato dalla discrezione, che è una parola che deriva dal latino dis cernere, che significa guardare distinguendo, è la discrezione e la capacità di distinguere caso per caso e applicare la ragione per poter riconoscere quello che ci è utile, quello che ci serve, quello che la realtà ci presenta e che altrimenti senza ragione rischieremo di perdere di vista. L'atteggiamento generale a cui sono improntati i ricordi è sicuramente l'atteggiamento di chi guarda la realtà con scetticismo. Ecco, è venuta meno quella tensione etica, politica, quella fiducia di Machiavelli che poteva essere da stimolo per poter delineare un'utopia, quale quella del principe che avrebbe rappresentato la soluzione della difficile situazione italiana. Invece non c'è questa fiducia in Guicciardini. Ricordiamolo in chiusura, mentre per Machiavelli, rispetto alla fortuna, comunque l'uomo ha un potere che è pari al 50%, circa la possibilità di mutare gli eventi a proprio favore, ebbene per Guicciardini la situazione è molto più drastica, molto più drammatica, perché il potere della fortuna, ebbene, corrisponde al 100%. Grazie a tutti.